Ciao ragazzi, sempre al Moulet Rouge, assaggiamo questo pâté di fragois, molto molto parigino. Assaggiamo un pochino questo fragois. E non è fatta questo? Questo è il pâté? E questo che è cos'è? Eh? Il pane? Scusate, questo è il pane. Siamo venuti uguali. Però ha una consistenza un po' di... Ehm, il pane un po' di quelli, ho capito, quelli un po' un po'... Un po', l'ho già assaggiato questo pane qua, che pane è? E' aromatizzato. Buono, molto buono. Ragazzi, e via. Non si fa possibile, non si fa possibile. No, qua abbiamo una verdura di stagione. La pappuco è il pappuco, però, eh? Certo. Evidentemente c'è una spezzata al pappuco, però vi devo dire una cosa. Non dico che siamo i più eleganti, perché no. Ma tra i più eleganti, perché praticamente i mille pazzi, è come nel film, dei bravi ragazzi. Viste? Alla zocca. Voi il mio amico, Romolo, che ha la zocca anche lui, no? Adesso assaggiamo il pâté, il pâté di fraguà. Non si fa possibile, non si fa possibile, non si fa possibile. Una crema di, cos'è questa? Una marmellata. Una marmellata che si accompagna molto bene con la domenica. Perché poi la domenica, vi spiego cosa faccio. Io la domenica, mangio sempre la marmellata. Per tenermi in forma, mangio sempre... Mi sento un po' Frank Sinatra. Mi sento un pochino... E anche un pochino di Martin. Mi sembra di entrare... Non so se vi ricordate il Rat Pack, quello fondato da Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, grandissimo Sammy Davis. Ecco. Mi sento un po' Sammy Davis questa sera. Oppure nel film di Robert De Niro, quei tre bravi ragazzi. Un pochino... Un pochino... Ecco. Un crudo canto. Buonissime. Posso passare il fraguè. E poi logicamente non mancava lo champagne. Perché potete vedere... Vi faccio vedere lo champagne. Questo champagne ragazzi. Guardate che champagne. Guardate che bottiglia di champagne. Non per i gnon. Ragazzi 20.000 euro a bottiglia. Qua ci siamo. Qua siamo a 20.000 euro a bottiglia. Eh ragazzi qua. 20.000 euro a bottiglia. Pino Dinamico. Che dici? Buonissime. Eh? Buonissime. Pino Dinamico che dici? Devi di Martin e lo spettacolo. Adesso piano piano inizierà dopo lo spettacolo. Adesso... Io mangio. Ciao. E mille passi. Buonissime.